argentia big game fishing colmich ha realizzato in un look innovativo un concentrato di reattività e grandi performance per la pesca in mare dei big stand up ideale per drifting e train ad altura fusto slim in fibra di carbonio ulaf e pro force calcio unibat pacific bay removibile trittori curvo a richiesta del cliente ed eva hard per migliorare la presa durante il combattimento due misure 5 piedi e 6 nei libraggi 50 80 e 80 120 6 piedi nei libraggi 30 50 e 50 80 anelli stewart made in usa di altissima tecnologia per resistere a sollecitazioni elevate garantiti contro la salsa di assemblata con materiali di primissima qualità per un'azione estremamente reattiva in fase di recupero tonni spada e tutti i big di altura diventeranno il vostro obiettivo per pescate indimenticabili i grandi campioni colmich vi consigliano argentia